Ciao a tutti, bentornati. La Svezia si trova qui e negli ultimi 24 ore si sta molto parlando del paese europeo perché ha deciso di rimettere i controlli alle frontiere, sospendendo di fatto gli accordi di Schengen sulla libera circolazione all'interno dell'Europa e decide di farlo per un motivo molto semplice. Nel 2015 la Svezia è stata uno dei paesi più gettonati, se non il paese più desiderato, come meta di arrivo per le tantissime persone che come sappiamo sono arrivate in Europa in fuga dalla guerra e appunto soltanto nel 2015 ha ricevuto più di 150.000 richieste di asilo che evidentemente il governo svedese ha deciso che debbano essere gestite con un po' più di calma, quindi controlli alle frontiere con la Danimarca che allo stesso tempo ha deciso di sospendere gli accordi con la Germania, che si lamenta di questa mossa anche se, indovinate un po' a settembre, se non ve lo ricordaste, chi aveva sospeso gli stessi accordi al confine con l'Austria? Esatto, l'amica Germania. Questo ovviamente è un problema ed è sempre un problema quando a sospendere temporaneamente la libera circolazione è un altro paese, non quando lo facciamo noi, quando lo fanno gli altri in realtà però sono in tanti i paesi europei che applicano questa regola perché possono farlo che è ovviamente però un altro dei segni di cedimento dell'Unione Europea è uno dei problemi dell'Unione Europea, non sto dicendo che ora sta implodendo completamente l'intero continente perché l'Europa in teoria è un continente, anche se in realtà non lo è proprio Infatti lo stesso portavoce di Angela Merkel si ritrova a ripetere qualcosa che tantissimi altri hanno già detto ovvero serve una soluzione condivisa per far fronte al problema che è quello che accade quando c'è un problema all'interno del condominio nessuno vuole farsene carico ma nessuno vuole nemmeno pagare e desidera che a farlo sia qualcun altro non serve semplicemente un paese che prenda la leadership come in questo caso è accaduta la Germania serve proprio un leader europeo perché anche se un po' se lo siamo dimenticati la leadership politica significa anche prendere decisioni che scontentano alcune persone noi abbiamo questa idea, no? Ah, il leader politico amato dalla gente non si trova più dove sono finiti i vecchi leader politici in realtà non è così un leader deve anche saper prendere delle decisioni popolari e quindi a bomba sul primo video pubblicitario di Donald Trump i video americani sono sempre interessanti quando sono dei video politici perché più che altro attaccano gli altri candidati in Italia non credo sia nemmeno concesso fare questo tipo di cosa il punto è che in quattro settimane si inizierà a votare stato per stato per le primarie americane del partito repubblicano e Trump è la prima volta che tira fuori un video pubblicitario il che non è strano per capire perché basta capire come funziona il populismo Trump non ha veramente bisogno di fare dei video pubblicitari e soprattutto non ha bisogno di pagare affinché questi video pubblicitari vengano mandati dalle emittenti americane in tv perché tanto comunque le emittenti americane ce li mettono comunque questi video per criticarli e commentarli cosa che fanno anche le persone su facebook è il potere del populismo è il potere dell'essere controversi quante persone mai ritengono che sarebbe interessante sentire cosa ha da dire che ne so Matteo Renzi il presidente del consiglio su una specifica questione molto meno di quelle che non vedono l'ora di sentire cosa la Sant'Anche è o cosa Salvini dirà in merito a una particolare questione non appena succede qualcosa che si sa potrebbe attivare le antenne di Salvini tutti quanti si precipitano sulla pagina facebook di Salvini o di Grillo o di qualsiasi politico che è abituato a spararle grossissime per vedere cosa questa persona dirà in merito a quell'argomento è uno dei poteri dei media specialmente di quelli nuovi di internet perché cattiva pubblicità l'importante è che se ne parli e arriverà alle orecchie di qualcuno che invece normalmente sarebbe distratto fantastico ovviamente perché a sto punto chi se ne frega di tutto immagino che si veda nel video un gruppo di messicani che corre verso la recinzione che separa appunto il Messico dagli Stati Uniti Trump ci ha fatto campagna su questo non vuole che i messicani arrivino come immigrazione nel territorio degli Stati Uniti e l'americano di destra medio non vuole la stessa cosa peccato che le immagini che si vedono non siano immagini di messicani e la recinzione non si trovi qui si trovi più che altro qui quella è la recinzione della città stato praticamente dell'enclave in Tunisia spagnola di Melilla cioè è una roba completamente diversa ma tanto non gliene frega niente a nessuno non è importante è un'altra delle ragioni per le quali anche noi ne stiamo parlando e visto che parliamo di enclave peraltro Fallout 4 che giustamente non ha vinto il premio di gioco dell'anno perché non è il gioco dell'anno ha un sacco di cose che ehhh si potevano fare decisamente meglio il punto è che quando parliamo di politica lo dico perché mi sono ritrovato a fare lo stesso discorso pochi giorni fa con uno di voi pensate a Fallout 4 la faccia del fatto che i videogiochi non insegnano niente Fallout 4 è un territorio che è conteso da varie fazioni che sono molto politiche ci sono delle fazioni più o meno progressiste come i Minutemen ci sono delle fazioni che pensano soltanto a loro stesse come l'istituto e ci sono altre fazioni come la confraternita d'acciaio che sono molto conservatrici e che quindi vogliono il bene per quel territorio ma quel bene per il territorio in realtà concide con il loro bene e non con il bene di tutti e si ritrovano quindi ad essere una forza molto regressiva il punto è che non ci sono buoni e cattivi e ogni fazione ha i suoi problemi le sue contraddizioni e si ritrova di fronte a vari problemi o a vari compromessi o a varie scelte da dover fare per raggiungere determinati obiettivi i Minutemen si pensano al bene di tutti però sono molto disorganizzati e molto inefficienti l'istituto è tecnologicamente e scientificamente avanzato ma non ha alcuna remora alcuna etica alcun tipo di considerazione per nessuno la confraternita d'acciaio è molto organizzata ma il prezzo della libertà dei membri è più o meno di tutti gli altri ed è così che funziona la politica realmente nel mondo la politica è interessante dipende da come la si guarda altrimenti potete guardare un video di un gruppo di persone donne lesbiche che toccano per la prima volta un pene in un video interessante eppure c'è il fatto che domani accadono due cose importanti quando dico importanti intendo più o meno importanti la prima è che verrà iniziata la vendita al dettaglio dell'Oculus Rift abbiamo visto questo device in versione alfa e poi in versione beta e poi l'hanno dato agli youtubers e costava un sacco di soldi e adesso è evidentemente dopo qualche anno pronto per la vendita al grande pubblico il che sarà fantastico più che altro per farci tante battute su Breaking Italy quindi buon compleanno e anticipo a me e soprattutto per vedere dove questa tecnologia andrà perché tu puoi costruire la migliore delle cose e questo ce l'ha insegnato il mercato tecnologico in ogni caso ma se le persone quella cosa non la comprano e non diventa un oggetto che viene abbracciato e utilizzato comunemente da molte persone quella tecnologia è destinata a morire io non credo spero che non sia così ma non necessariamente sarà l'Oculus Rift a portare effettivamente l'esperienza 3D a casa di tutti quanti saranno i primi device così che verranno ipoteticamente in un futuro venduti con le console perché sono le console in realtà l'oggetto che la maggior parte delle persone casual gamer principalmente utilizza per giocare mi spiace PC Master Race e tutto il resto questa è la verità quindi vi prego di non far del male al pianista con le vostre catane e i vostri coltelli butterfly nascosti nei fedora c'è anche un'altra roba interessante ne stanno parlando tutti quanti che è in realtà soltanto una frase ma la dice lunga sul potere di quest'uomo Mark Zuckerberg ha infatti fatto sapere che il suo obiettivo nel 2016 è costruire a casa sua una sorta di versione di Siri Gigante o di James che viene direttamente da Iron Man che è il classico sogno di praticamente qualsiasi nerd me compreso dai tempi dei tempi una casa che parla e interagisce con il suo proprietario un'altra roba della quale si sta discutendo un sacco e non riesco a essere non riesco a prendere una netta decisione quindi mi obbligo in un certo senso a prenderne una ci arriviamo e capirete perché è quella, la notizia appunto che vuole questa persona la sorella di Stefano Cucchi che immagino non debba spiegarvi chi è al centro di un grande casino per aver pubblicato questa foto qui ma per chi non sapesse di cosa stiamo parlando Stefano Cucchi un ragazzo che è stato picchiato da qualcuno dopo essere arrestato e dopo sei anni di processi e adesso di assoluzioni visto che l'accusa era principalmente rivolta agli agenti della polizia penitenziaria che l'avevano tenuto in carcere a seguito dell'arresto le calde attenzioni dei magistrati si sono invece rivolte a chi ha perpetuato l'arresto dall'inizio ovvero i carabinieri e questo dizio è appunto uno dei carabinieri cosa è successo dopo questa roba qui ovviamente la caccia alle streghe l'uomo la quale foto era pubblica su facebook ovviamente ha rimosso la foto dopo che ha visto arrivare orde di persone a suo dire ad accusarlo di ogni tipo di cosa ma anche a minacciarlo di morte e ha deciso a sua volta di denunciare la donna che però anche se la foto a quanto pare è stata rimossa ha deciso di ripubblicarla ulteriormente sulla sua pagina facebook ora ogni volta che succedono cose di questo tipo la mia linea è sempre quella del non dobbiamo fare i processi né sui social né su internet in genere né al bar né in tv i processi si fanno nelle aule competenti e questa è tuttora la mia linea io ritengo che fare questo tipo di cosa sia sbagliato ma allo stesso tempo comprendo perfettamente anzi affatto perfettamente probabilmente non ne ho idea posso cercare di comprendere posso cercare di immaginare cosa questa donna stia passando perché alla fine il pubblicare una foto di una persona peraltro tanto muscolosa tanto in forma accusata a quanto pare di essersi vantata di aver picchiato questo ragazzo che non era altrettanto in forma apparentemente sia qualcosa che attiene al mondo dell'umano semplicemente a un certo punto siccome nessuno sa darti delle risposte dopo sei anni nessuno sembra essere colpevole questo ragazzo che è stato appurato che è stato picchiato ma non si sa da chi e quindi è morto e quindi ovviamente se sei un suo familiare non hai alcuna intenzione di lasciare che questa roba passi in cavalleria e poi di nuovo mi ritrovo a condannarla perché presunzione di innocenza e se quel carabiniere in realtà non fosse colpevole cioè staremmo effettivamente sventolando le fiaccole sulla faccia di qualcuno che magari è innocente o magari ancora di più questa persona è colpevole per sto caso a sto giro potrebbe essere qualsiasi cosa ma questa è effettivamente la linea che vogliamo tracciare per ogni caso simile a questo che potrebbe presentarsi da qui in poi perché quando si apre una porta quella porta rimane aperta e se ci abituiamo a fare i processi sui giornali e online e ai bar cosa che già facciamo peraltro facciamo passare l'idea che questa roba sia giusta continueremo a fare questa roba qui e quindi a sventolare fiaccole quando si sventolano le fiaccole ogni tanto si brucia anche qualcuno che non c'entra assolutamente niente fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie a Giulio che è il nostro alfiere per oggi e che continua questa tradizione che non voglio che si spenga va avanti ormai da quasi cinque anni e voglio che rimanga la tradizione di alfiere e regina della gentaglia alla fine credo sia importante perché io vi veda in faccia e mi ricordi che non lo so che è una community di persone fantastiche quindi grazie anche per tutti quelli di voi che mi mandano le foto e ricordatevi che dovete mandarmele all'indirizzo email e dovete mandarmele seguendo certe regole sono una sorta di Sheldon quindi per me le regole si applicano sempre il logo non può essere sbagliato non può essere photoshopato trovo che ci sia qualcosa di fantastico nel pezzo di carta con il logo sopra fate i bravi a tutti ci vediamo domani Grazie a tutti.